Siamo con il comandante della Guardia Ecozofila Nazionale, un corpo nuovo possiamo dire così, sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Ci racconta un po' quali sono le attività che svolgete? Sì, è un corpo che da circa sette anni si è nell'ambito nazionale e dal 2012 qui a Civitavecchia. Prima si faceva soltanto sul conferimento dei rifiuti e hanno fatto vari interventi su animali, sia domestici che selvatici. E adesso ultimamente ci stiamo proprio adoperando nella ricerca delle discariche abusive che purtroppo qui a Civitavecchia, in tutta la periferia e anche al centro, è un momento critico. Ecco, questo è l'intervento più comune che svolgete, quello delle discariche abusive, immagino perché a noi arrivano anche tantissime segnalazioni. Sì, soprattutto con l'aiuto del nuovo comandante Pietro Cocumile della Polizia Locale ci stiamo adoperando proprio in vari servizi, in borghese, in abiti civili, proprio per trovare queste persone che purtroppo pure se c'è una discarica qui comunale che si può andare benissimo senza pagare, nulla, la gente continua a buttare per le campagne. Di poche settimane fa, tra l'altro un vostro intervento, appunto in collaborazione con la Polizia Locale, avete insomma trovato un soggetto che gettava materiale edile, se non sbaglio, in un castonetto, insomma, non adibito a quel tipo di materiale. C'è ignoranza? Come ve lo spiegate, insomma, una cosa del genere? È più semplice gettarlo lì magari? Sì, più che ignoranza in civiltà, direi. Sì, mentre transitavano lì in via Aurelia, due delle guardie ecozofile nazionali, si sono trovati queste persone che dal camioncino buttavano dei calcinacci all'interno di un castonetto dell'immondizio, proprio lì vicino al cimitero vecchio e c'era anche della guaina. E nonostante tutto sul camion c'era una deltopicida e materiale infiammabile. Sì, così è stata chiamata la Polizia Locale, che prontamente sono intervenuti, hanno portato i livei presso i loro uffici e hanno fatto il tutto. Tra l'altro, un po' di ignoranza, dicevamo, voi lavorate anche con le scuole, grazie alla Fondazione Caricif, con qualche corso che forse può aiutare gli uomini del futuro. Sì, sì, c'è il vecchio comandante Celestini che da tre anni, con un contributo della Caricif, l'aiuto del Presidente Cacciaglia, fanno educazione civica presso le scuole elementari qui di Città Vecchia.